La placca batterica è un aggregato bianco-giallastro di microorganismi adesi tra loro alle superfici dentali, in particolare lungo la linea gengivale. È stato calcolato che un millimetro di placca dentale contiene più di 200 milioni di cellule batteriche. Con questa tecnica è possibile mettere in evidenza i batteri della placca, sia quella sopra che sotto gengivale, e attraverso un microscopio a epifluorescenza valutare il morfotipo dei batteri. Inoltre, grazie alla colorazione rosso-verde, è possibile valutare se questi siano vivi o morti e la presenza di batteri aggressivi che possono compromettere la salute delle gengive.